Ciao a tutti animatronics, bentornati in questo nuovo video! Che cazzo sta su? Filtro 2D? Sì, tinto! Oggi facciamo la nostra morning routine e lascia il video Come vedete io dormo in letto grande e Lele è in letto basso Non è vero Allora io qua e lui basso Lui basso e io alto E sono le 12 e 28 Non ne siamo mai alzati così tardi noi però Hai capito? Allora Lele ci alziamo Allora vedete io ho le coperte di maschio C'è l'uccella rossa Non vale Vabbè il mio cuscino più bello Allora iniziamo Sempre ogni volta Lele toccando quella cosa Cioè che cos'è? Le mie medaglie sono belle Sì Ma madre è bella Allora Noi dormiamo in questa camera Ma Lele è super comodita Allora ogni mattina cosa facciamo Lele? Ci alziamo da letto e poi andiamo in bagno a lavarci Andiamoci a lavare i denti Allora io devo andare in bagno Quindi vedete soltanto a Lele Lele lavati i denti Lava i denti Bello bello Io posso lavare i denti Voi a lavare i denti Lele lavati i denti Lava i denti Mi muovo Mi sono lavati ieri Non fa niente Mi devi lavare Per l'igiene più pulita Usate ora la via Ora ragazzi anche un lavo i denti Mi spostate un po'? Con la testina tonda Gira super veloce E te la va in fretta Sì sì Allora io invece c'è il mio Senza lasciare nemmeno Sport Sì e io invece c'ho la via Io c'ho soltanto la Robin Io c'ho la normale Allora Lele Dammi la pazzolino Dammi il dentifricio Ok Io mentre facevo la pubblicità Mentre ora mi specchia A parte che c'è uno specchia anche qua Sì Era mio Ah figo figo Ah 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 Posso vedere il dietro Che schifo che cosa abbiamo fatto Ok Schifo Aspetta Lo metto bene Mi trovo questa medaglia Mi faccio i capelli C'era tutto una merda E infatti si vede C'era una merda Dovevo si occhiali Buona l'altra Venti vediamo dopo Ok Ok I denti Mi sono lavati prima Perfetto Mi ha finito L'interno sul tavolo che sta facendo lele allora ragazzi dopo che ci siamo lavati siamo ancora col pigiama quindi ci dobbiamo vestire ci dobbiamo vestire allora io ce l'ho qui nella borsa i vestiti un video allora ragazzi questa è la mia borsa ci vediamo dopo allora ragazzi sono andato in camera mia mi sono andato in camera mia camera camera mi devo vestire mi metterò questo pantalone vabbè vi faccio vedere perché è troppo noioso mi sono vestita guardate guarda va mi sono vestita mi sono vestita io mi sono vestita allora mi sono messa questo calcino si questo calcino questi calcini con con la sua ambella frullato questo leggings grigio questo lupetto viola col cuore e questa giacca quindi ragazzi questo gioco si conclude qua se dire che lei era un po' stupido avete ragione perché è così ciao ciao